Grillo rispedisce al mittente la sfida di Renzi, intanto Forza Italia attacca il nuovo centrodestra, eviti di consegnarsi mani e piedi alla sinistra. Sonia Sarna. Renzi la smetta con gli annunci, faccia quel che c'è da fare. Il Movimento 5 Stelle non fa sconti al neosegretario del PD, lo incalza su riforme, legge elettorale, si può cambiare tornando al Mattarellum, dicono, restituzione dei rimborsi elettorali. Non c'è da fare accordi, sostengono i grillini, c'è solo da votare delle cose e se sono giuste ci siamo. Renzi restituisce tutti i soldi rubati ai cittadini italiani negli ultimi vent'anni, l'accordo politico non lo deve fare con noi del Movimento 5 Stelle ma con tutti i cittadini italiani.